Professoressa Melillo, si parla ancora di didattica a distanza e non di didattica in presenza. Come sta andando al classico? Allora, il classico per adesso è ancora con la didattica a distanza, però ovviamente stiamo organizzando il rientro che pare ci sia il 7 di gennaio in modo da poter organizzare la scuola nel miglior modo possibile in sicurezza. Nella realtà noi dovremmo ritornare, così sembrerebbe, sempre con un gruppo della classe in aula e l'altro gruppo a casa. La motivazione è semplicissima. La motivazione nasce dal fatto che le nostre aule non sono abbastanza capienti per tenere tutta la classe al completo. E quindi ovviamente questa decisione, seppur sofferta, seppur difficoltosa, perché non è un problema soltanto dei ragazzi che magari vengono divisi e quindi soffrono la mancanza di socializzazione. Il problema è anche e soprattutto nostro che dobbiamo gestire ragazzi in classe e ragazzi a distanza e cercare comunque di fare il nostro percorso, il percorso di studi. Non dimentichiamo che il classico è un liceo, quindi di norma i nostri alunni si iscriveranno all'università, per cui abbiamo necessità di dare loro una formazione a tutto tondo, così che i ragazzi possano tranquillamente frequentare i corsi che loro hanno scelto per il loro futuro.